Il Salone del Camper 2013 Il marchio francese è da sempre in prima linea nel campo dei profilati ma nel catalogo si evidenza una nutrita presenza di motorhome raffinati e accuratissimi Innovativa ed originale il nuovo semintegrale 640 su Ducato 130 carreggiata larga lungo 6 metri e mezzo Di linea compatta con un cupolino molto profilato il mezzo ha un'ampia finestratura con luminoso padiglione panoramico sopra cabina Originali gli interni davvero innovativi con l'ardita scelta della cucina trasversale a sinistra dell'ingresso che disimpegna la zona living affacciandosi sulla parete che separa la zona notte Dietro questa la camera con letto sulla sinistra a fianco della toilette frazionata doccia e WC a sé stanti e mobile lavabo a giorno Qui originali vani portaoggetti si trovano nascosti da una parete a specchio che scorre verso la finestra Accurati ed eleganti gli arredi con mobili in legno e sellerie in bianco Questo 6,40 si è giudicato l'award dell'anno a seno del camper 2013 come miglior semi integrale I motivi ci ridice Alessandra Tresoldi di Jazz Camp 6,40 è un modello molto innovativo, unico nel suo genere, disegnato personalmente da Messier Rousseau È dedicato sia alla coppia ma anche alla famiglia in quanto con l'aggiunta di un letto basculante in opzione può essere benissimo usufruito da una famiglia di 4 persone in quanto ha 4 posti letto e 4 posti viaggio Molto appunto funzionale come dicevamo prima con una cucina nella zona laterale all'ingresso Grazie Grazie